Papà, ma ti ricordi quella bottiglietta che è stata dentro al cassetto tuo? Ma quale bottiglietta? Chi? Quella piccola con quel tappetto verde. Ma Federì, quella non era una bottiglietta, quella era un profumo. Che è successo? Papà, sono andato al bagno, non te la ricordo di ora, ho spruzzato quello. E mentre lo spruzzavo mi è cascato dentro la tazza. Ma Federì, io spero che stai giocavo. Quelle erano due e sessanta di profumo. Stai a scherzare, vero? No, vai, per sbaglio ti ho tirato cura la catena. Ma Federì, ora ti dico una cosa. Cara, te è costata questa cagata. Ma lunedì, invece di andare a scuola, ti mando a cucire i palloni. Capito? Cominciamo a lavorare. Vai sul cantiere e vai a lavorare. Per ripagare a me il profumo. Ma chi ti ha detto, porco? Vabbè, bantarabbià. Pure l'altro profumo, che te non sai. Praticamente mi è cascato tutto per terra perché si è svuotato e l'ho riempito con l'acqua della tazza. Oh, ma che sei deficiente, Federì. Ecco perché mi sembrava svanito. Ma li mortacci. Cia. 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 Cia.